Un rapinatore evaso dagli arresti domiciliari probabilmente per mettere a segno un altro colpo nel centro storico di Fano. I suoi piani però non sono andati a buon fine perché è stato fermato dalla polizia che era in servizio per effettuare alcuni controlli di prevenzione dei reati. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi quando le autopattuglie della squadra mobile del commissariato fanese hanno intercettato in via Mura Auguste una potente moto marca Honda con la targa sospetta. Infatti le lettere e i numeri non risultavano a rilievo come previsto ma erano piatti. Alla vista dei poliziotti l'uomo si è dato alla fuga partendo ad alta velocità e attuando spericolate manovre per divincolarsi nel traffico cittadino ma è stato raggiunto e bloccato nella rotatore della liscia. Si tratta di un 47enne residente a Napoli noto alle forze di polizia perché già coinvolto in episodi di rapina a danno di rappresentanti orafi e gioiellerie in varie zone d'Italia. Gli agenti lo hanno denunciato in stato di libertà per aver circolato alla guida di una moto munita di targa falsa. Inoltre non aveva la patente che gli era stata revocata nel 2000, era privo della copertura assicurativa e la revisione del mezzo era scaduta. Per queste ragioni gli sono state levate svariate multe per un totale di circa 5000 euro. Le indagini però non sono concluse perché non si può escludere che l'uomo con l'eventuale aiuto di un complice stesse per consumare una rapina. Infatti, come riporta la polizia in una nota stampa, la tecnica utilizzata dai malviventi specializzati nel settore consiste nell'attendere ai rappresentanti orafi e l'uscita delle gioiellerie per poi seguirli a bordo di moto potenti e sottrargli le borse contenenti preziosi o aggredendoli fisicamente. Oppure, una volta individuata la vettura della vittima, la prelevano con forza dall'abitacolo e poi scappano a tutta velocità. A sottolineare l'importanza dell'azione di prevenzione delle forze di polizia è il dirigente del commissariato di Fano e vicequestore aggiunto, Stefano Seretti. Abbiamo operato una vigilanza proprio con dei pattugliamenti sul territorio. Abbiamo notato il fatto che circolasse questo motoveicolo con una targa falsa, applicata sopra quella vera, quella originaria. Quindi è il classico modus operandi delle rapine effettuate nei confronti soprattutto dei rappresentanti orafi, cosa già avvenuta a Fano. Quindi abbiamo immediatamente fermato questo pericolosissimo criminale con alle spalle moltissimi precedenti proprio in questo senso. Quindi abbiamo evitato una rapina anche pericolosa, non solo per la vittima, la probabile vittima, ma anche per i civili, per gli utenti, anche della strada perché poi c'è una fuga precipitosa a bordo di queste potentissime moto e la fuga avrebbe sicuramente interessato l'Adriatica. Quindi l'importanza della prevenzione è fondamentale proprio nell'ottica del controllo del territorio.